Sofia mamma, l'annuncio è stato il pettegolezzo dell'anno, non soltanto a Via Veneto, ma anche tra la brava gente che ama i suoi idoli di celluloide e li vorrebbe felici. Vero? Falso? Forse in uno sguardo di Sofia a questi bimbi la risposta. Forse in una carezza, forse in una confessione a De Sica, tornato buon padre di famiglia, buon ario e grigione dopo le pollie amorose delle pillole d'Ercole. Con De Sica, regista, Sofia Loren sarà la ciociara nel film tratto dal racconto di Moravia, al fianco di Vallone, Belmondo e Salvadori. Mamma Scicolone, aspirante nonna, osserva ansiosa. E se dopo questo film la bella Sofia volesse interpretare tutta sua la migliore delle produzioni Ponti?